Annibale allora si svegliò, la camicia di lino era bagnata di sudore, fece un sospiro di sollievo. Da diverso tempo ormai non doveva più andare in bottega col padre, ma il ricordo di quella costruzione ancora gli faceva fare brutti sogni. Dalla bronca bianca si versò dell'acqua nelle mani, poi si lavò il viso, aveva premura di uscire. Gira la testa, ma nello spazio incrociò il suo sguardo. Allora si fermò per guardarsi. Gli occhi erano quelli di sempre, ma li sentiva bruciare di desiderio, come i crampi della fame. Vengono saziati solo con il cibo, così gli occhi di Annibale desideravano già essere fuori tra la gente. Pensava che attraverso quegli occhi poteva guardare le persone muoversi, girarsi e sorridere. Poteva vedere le linee dritte costruite dalla città e quelle morbide e irregolari e imprevedibili dalla natura degli uomini e degli animali. Milioni e milioni di linee si incrociavano istante dopo istante, creando infinite combinazioni di vita. E lui si sentiva fortunato ancora più di adesso. Ancora di più adesso che i suoi occhi erano liberi di disegnare e immaginare ciò che voleva. Aveva studiato e ascoltato a lungo gli insegnamenti dei suoi maestri. È di Ludovico e si applicava costantemente nell'esercizio di disegno, ma le giornate che dedicava a copiare dal vivo erano quelle che gli davano una felicità piena e particolare e stavano diventando per lui molto importanti. Quella mattina sarebbe andato per le vie con le sue lenzuole bianche a cercare i soggetti. Grazie a tutti.